come sapete ambasciatore non porta pena quindi non ve la prendete come per quello che adesso vi dico insomma ai tempi del colonia virus qui nelle zone di campagna dove vivo al paesello insomma si sta sviluppando un altro modo di salutarsi al baretto per esempio la gente quando si incontra si saluta così ciao fiore ciao ando ciao compà così con il braccio rigorosamente aderente al torace e il braccetto l'avambraccio dritto qual è il braccio porca miseria braccio avambraccio ma confondo sempre vabbè non ha importanza dicevo ci si saluta così sapete perché perché ai paesani il fascismo piace a metà e non gli piace la dittatura e non gli piace l'intervento in abissinia non gli piace l'avventura in spagna a sostegno del franchismo contro la repubblica non gli piacciono le leggi razziali anzi abborrono le leggi razziali e non gli piace soprattutto l'intervento in guerra a fianco di hitler dei tedeschi e tutte queste cose ai paesani non piacciono e però gli piace il resto e io che vedevo di e quindi quando si incontrano non si salutano perché non si devono toccare tempi di colonia virus non ci si deve toccare si deve stare alla giusta distanza e allora non si salutano con il braccio teso si salutano così a segnalare che del fascismo non gli piacciono le cose cattive ma altre cose sì e che cosa gli piace del fascismo ai paesani io ve lo stato gli piace la sicurezza che ha torto a ragione credono che in quei tempi si ci fosse e gli piacciono tutta una serie di altre cose introdotte o continuate dal fascismo che poi gli sono piaciute anche dopo la guerra durante gli anni della prima repubblica i paesani erano sereni e tranquilli anche se lavoravano più di oggi e guadagnavano magari di meno ma quello che interessa la gente non è tanto guadagnare tanto lavorare poco perché gli italiani e qui in particolare sono lavoratori e non sono dissipatori ma anzi disparmatori quello che gli italiani vogliono specialmente qui al paesello e la sicurezza del vivere poi ci pensano loro a riprodurre le loro famiglie ecco e quindi io vedevo di questo questo sistema liberista di in cui bisogna essere flessibili muoversi essere disposti al cambiamento eccetera eccetera non gli piace e quindi al tempo del colonia virus al baretto dei gastro dei porci cesse saluta così alla prossima